Bene, buongiorno, scusatemi, ieri mi sono preso un giorno di pausa, ho avuto una diretta abbastanza lunga per il ritorno a Quarta Repubblica e quindi eravamo tutti quanti un po' arrugginiti, me la sono dormita fino a tardi, abbiamo fatto un risultato straordinario di ascolti con una puntata completamente diversa, se qualcuno di voi l'ha vista, rispetto a quello che hanno fatto gli altri talk show che non vuol dire che uno abbia fatto bene o male, però l'idea che noi avevamo, ed è quella che voi conoscete bene qua dalla zuppa è quella di fare, pensare a come ripartire perché se no qua gli arresti domiciliari impazziamo e tra l'altro il tema mio è quello degli arresti domiciliari, l'ho tenuto spero anche in televisione come sapete con il gergo, il modo e il garbo che è diverso rispetto a quello della zuppa tant'è che molti sono qua nella zuppa e mi seguono nonostante io dica le stesse cose in televisione con un tono completamente diverso, quindi grazie a tutti voi che mi avete seguito, chiudiamola qua perché abbiamo già passato un minutino a raccontarci gli affari nostri, mentre oggi i giornali sono pieni di cose interessanti intanto finalmente si è ritornati sul punto che sostenevamo noi su questa zuppa da tempo e cioè sulla fase 2, cioè ragazzi qua noi abbiamo chiuso l'Italia, abbiamo arrestato gli italiani abbiamo chiuso imprese che in Italia non lavorano e l'estero non lavorano oggi per esempio ci sono mille casi di aziende che iniziano a parlare e dobbiamo cercare di capire come riaprire. Il solito Pasini, solito non perché io lo voglio sdrammatizzare ma perché è l'industriale brecciano che più parla in questo momento ha un'idea e tanto lui sa perfettamente che la sua fabbrica a Brescia non funziona e in Germania sì, a Brescia ha messo 800 persone in cassa integrazione e in Germania no lui dice intanto perché non facciamo partire gli under 45 o che hanno un rischio di contagio e di aggravamento della malattia molto inferiore, un'intervista tra le tante e chi è che altro dice? In Austria i negozi, leggo oggi sui giornali, apriranno il 14 aprile dopo Pasqua, anche perché vi vorrei segnalare che le fabbriche possono funzionare ma se non funziona tutta la filiera, le fabbriche rischiano di produrre per il magazzino quindi con scherzissima necessità bisogna aprire piano piano in sicurezza questo paese bisogna fare i test, oggi c'è un'intervista all'amministratore delegato di Diasorin che è un'azienda italiana, mi sembra su MF, che dice che ha fatto il kit che permette di vedere quelli che si sono presi da malattia e quanti anticorpi hanno cioè se riusciamo a dare un patentino per poter lavorare e così riaprire questo paese evidentemente non moriremo di fame, cosa che molti stanno sottovalutando Renzi, in un'intervista a Repubblica oggi, dice un'altra cosa che io condivido al 100% in questo nostro comitato di salute pubblica e cioè che a decidere le riaperture non sono gli scienziati, ragazzi, è la politica è la politica che deve cercare con il supporto degli scienziati di avere scelte politiche perché se fosse per gli scienziati, legittimamente, non apriamo mai perché non deve esserci mai rischio, rischio zero, rischio zero di contagio così come in un ospedale, ma l'Italia non è un ospedale e rischi ne abbiamo tutte le mattine, mentre lavoriamo, mentre prendiamo la macchina mentre andiamo in motorino, mentre andiamo per strada, mentre possiamo prendere altre malattie e quindi è evidente che la politica deve decidere Lord Samption, Rossella, mi chiedi se l'ho letto Lord Samption è stato un pezzo che ho citato su questa zuppa soltanto 4-5 giorni fa e ieri mi avete riempito di mail, di whatsapp su Lord Samption l'aveva pubblicato in prima pagina del giornale intervista alla radio di Lord Samption ieri evidentemente è iniziata a girare sui social e quindi tutti l'hanno visto, questo dimostra che i giornali si rileggono in pochi ma comunque non è importante, bellissimo pezzo questo per quanto riguarda la fase 2 però nella fase 2 io vi vorrei leggere una frase che io ho trovato allucinante del giornale unico voi giornalisti proprio in questo momento non potete essere di parte poi c'è sempre il solito fenomeno che viene qua e dice voi giornalisti, io sono di parte cioè sai che c'è di nuovo, che se tu non ti piace un giornalista di parte vai via, ma chi ti vuole sentire la mia zuppa io sono un giornalista di parte e che pensa che il giornale unico del virus mi fa orrore chiaro? quindi se volete vedere questa zuppa sapete questa roba se non la volete vedere ragazzi amici come prima tanto sono 5 anni che la faccio non è che cambia molto vi voglio leggere a proposito di giornalisti di parte l'apertura del Corriere della Sera perché lì allora capisci come i giornalisti non di parte come questo cazzone che mi ha appena scritto devono essere sentite le prime righe del Corriere della Sera prima pagina governi ed esperti cioè la fase tue che si riapre a turni gradualmente non tutti insieme con nuove procedure le distanze tutte le cose che abbiamo detto le mascherine eccetera governi ed esperti sono certi che i cittadini accetteranno le nuove regole ma ragazzi ma neanche Orwell neanche il signor Blair avrebbe scritto una cosa di questo tipo nel 48 nella prima pagina del giornale della borghesia italiana la frase è questa che è una specie di minculpo ma perché la frase? non vi suona una frase? può anche darsi ma il giornalista scrive governi ed esperti sono certi che i cittadini accetteranno le nuove regole e se lo dicevamo forse da Piazza Venezia sarebbe stato accettabile sì può essere che accettino le nuove regole ma è una roba cioè è proprio la mentalità del giornalista unico Alamieli quello che ci ha spiegato lui che deve esserci il secondo onda ma state attenti tutti là a cupi Conte come Julio Iglesias quando faceva l'amore Conte c'ha tutti i giornali che stanno intorno così che gli fanno una parola bravo 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 tutti 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 i giornali nel frattempo questa roba qua del decreto liquidità è una farsa io vi dico e vi invito le ho letti tutti i giornali a capire bene e non è stato ancora pubblicato in gazzetta ufficiale come funziona allora sotto i 25.000 euro pare che funzioni nella maniera che tu vai in banca e ti danno i soldi ho parlato con un banchiere molto importante che mi ha detto lì la banca deve soltanto vedere che tu non sia protestato anche se poi bisogna vedere cosa vuol dire protestato e se tu non restituisci questi 25.000 euro la banca è garantita dallo Stato può essere può essere se è così è molto semplice è quello helicopter money di cui parliamo e va bene pochi molti poi ne discuteremo però è semplice sopra i 25.000 euro per le aziende medie per le aziende grandi tutto segmentato un casino quelle sotto 499 quelle sopra 499 quelle che vogliono un peso di 800.000 euro quelli che vogliono un peso di 800.000 euro c'è la garanzia del fondo confidi e poi c'è la garanzia della Sace e queste due garanzie vogliono delle istruttorie ma poi deve fare la banca anche l'istruttoria perché no un casino che la metà basta ma ve lo assicuro ma non basta questo c'è una questione che poi tu puoi avere i 25.000 euro se hai il 25% infatturato io vi faccio una domanda molto semplice io sono una partita IVA ma voi vi rendete conto che ovviamente io non ho bisogno di questi soldi sono fortunato sono una partita IVA che non sta lavorando sono un barista sono un ristoratore sono un NCC sono un idraulico sono un infermiere a tempo sono un maestro di musica sono un personal trainer sono una persona normale beh io vi chiedo io vi chiedo ma gli volete dire cosa che Conte non ha detto quanto dura il prestito? sei anni ve lo dico io non l'aveva detto Conte le patonelli una cosa banale perché se tu mi presti dei soldi io te li devo restituire poi mi vuoi spiegare scusate non è una cosa se voi aveste avuto mai Compass Fin Domestic o un prestito nella vostra vita è importante se la data è ogni mese o è la fine dell'anno addirittura me la direi ogni sei mesi ogni sei anni toc toc uno di voi uno di voi geni mi può dire qual è il tasso di interesse di questi prestiti? no no perché magari poi siamo qua tutti fenomeni ma qualcuno di voi mi vuole dire cioè abbiamo fatto il Tiger il Taen ce la prendiamo con quelli che fanno meno uno meno zio ma ragazzi non è indifferente il tasso di interesse a cui tu mi presti 25 carte o no e nessuno ne parla ma è una roba che io trovo ma ragazzi ma perché ma perché una volta nella vita vostra non avete preso un prestito una volta non avete pagato una bolletta da soli una volta non avete pagato i contributi all'Inps da soli una volta non avete fatto una roba una ricerca del PIN io c'ho un mio amico oggi ora l'ho sentito 5 minuti fa che è dovuto uscire di casa dopo 15 giorni per andare alle poste perché ancora non gli è arrivato il PIN per accedere ai 600 euro siamo impazziti e questi ti dicono ti facciamo i prestiti allora vi dico soltanto che è fantastico il Corriere della Sera che inizia così il pezzo io mi sono fissato ma voglio dire i giornali sono più o meno simili ma il Corriere è particolare ed è particolarmente contrariano sentite il pezzo sulla liquidità non si può dire che all'impresa non vada bene non si può dire che all'impresa non vada bene e questo è l'incipit del pezzo di cronaca poi onestamente Massaro nel pezzo di cronaca a parte questo incipit che è fuori contesto spiega tutti i problemi perché anche lui non la sa spiegare bene questa cosa come tutti noi ma non perché è colpa di Massaro Massaro fa un lavoro egregio ma chi? non abbiamo capito nulla e però Massaro spiega sul Corriere della Sera la complessità delle norme e la loro esecuzione l'incertezza del doppio ruolo tra il fondo di garanzia e la SACE la durata limitata dei prestiti perché sei anni servono a poco e poi lo stesso Massaro dice ci vuole l'assenso UE a tutta questa procedura e lo hanno chiesto sia i sindacati sia l'ABI in una nota conciunta cioè stiamo a parlare di fuffa e non andate in banca non telefonate alle banche come dicono i sindacati perché oggi non avete nulla come non avete nulla dal decreto del 6 marzo va bene? la liquidità come cita il sole non la sgurbola marsicana che io adoro è la liquidità è una corsa a ostacoli mentre uno oggi non muore a ostacoli muore subito con la pistola puntata alla tempia e la pistola non è che l'ha puntata alla sua incapacità di fare business ma lo Stato che ha chiuso ovviamente con il lockdown con gli arresti domiciliari nell'ultimo mese e tutte le attività commerciali cioè tu mi chiudi e poi che cosa fai? mi dici ti do dei soldi in prestito non a fondo perduto a differenza degli altri paesi ma te lo rendo anche complicato ma ragazzi ma è una roba che veramente Magda di Verdone ci fa una pippa qui quando si chiude nel magno e dice non ce la faccio più con quel deficiente di Verdone che chiede a tutti quanti le temperature Anton Luca Anton Giulio come si devono mettere in macchina cioè questi sono matti matti poi io capisco perfettamente il presidente di Banca Intesa il consigliere delegato di Banca Intesa Messina che dice intanto vediamo come sono i dettagli definitivi e dice una cosa che però ragazzi in tutte le critiche che noi facciamo dobbiamo ricordarci perché poi governare non è una cosa semplice e dice beh insomma stiamo attenti perché l'ottimo è il nemico del bene però dobbiamo andare a vedere ancora i dettagli di questa liquidità e fino ad ora quello che succede è che questa roba non c'è l'ottimo è il nemico del bene comunque è un principio sacro santo sacro santo perché poi ognuno ha migliaia di ricette dall'i qua dall'in là mille euro al mese detto questo ora non si capisce assolutamente nulla quello che si capisce e quello che non si capisce nulla ad esempio è quest'altra cosa sanitaria cioè questi fenomeni dei nostri grandi virologi del comitato di salute pubblica che ti dicono che devi rimanere a casa nei prossimi mesi su quello sono sicuri e giustamente Renzi dice comandi la politica oggi nell'intervista della Repubblica oggi sui giornali ragazzi scontro tra Ressa e l'OMS l'Istituto Superiore della Sanità e l'OMS perché l'OMS dice che da solo le mascherine non sono sufficienti e sapete cosa dice l'Istituto Superiore della Sanità Italiano è fatto da funzionari pubblici italiani l'OMS non sempre ce zecca e allora voi pensate un cittadino italiano che ha il Lombardia l'obbligo della mascherina nella mia azienda l'obbligo della mascherina a Roma a uscire non c'è l'obbligo della mascherina vede Ressa che risulta Superiore della Sanità il fenomeno che dice non dovete scordatevi di riuscire di casa che dice che l'OMS non sempre ce zecca e l'OMS dice che non c'è sempre ce zeccano gli altri Trump nel frattempo fa l'unica cosa che deve fare e lo cita in una bella foto il quotidiano nazionale fa toc toc se lo potesse fare Trump lo farebbe dice scusami Organizzazione Monetaria della Sanità a parte tutte le cose le contraddizioni che hai avuto negli ultimi mesi ma forse magari l'allarme in ritardo sulla pandemia cinese un po' di responsabilità ce l'hai perché qua questi nessuno ha responsabilità di nulla quando sono scienziati nel frattempo l'Europa come era chiaro ha bloccato tutto la possibilità di solidarizzare sul debito pubblico non ci saranno i corona bond i covid bond la sfiga bond non ci saranno non hanno raggiunto nessun accordo 15 giorni fa hanno detto ah rimandiamo a 15 giorni ma il pezzo di Fubini oggi sul Corriere della Sera è favoloso perché nelle prime dieci righe del pezzo di Fubini dice che ieri si era presentata la Ursula quella che parla italiano che ci vuole bene ecco Ursula la baronessa Van der Leyen sapete che aveva previsto aveva fatto un protocollo per uscire dalla covid cioè la fase 2 senza concordarlo con nessuno tantomeno con Italia e Spagna che sono le più colpite questo è il criterio diciamo straordinario dell'atteggiamento l'altra cosa fantastica che Fubini spiega oggi Fubini ragazzi non è Nicola Porro un cialtrone sovranista come quei deficienti quelli che mi definiscono un cretino di sinistra come quel genno di Vitiello una specie di giornalista che scrive sul foglio che so il fenomeno Vitiello Vitiello leggiti per favore come si chiama Fubini leggiti Fubini che vi piacciono a voi Fubini spiega per esempio che questo sistema sure che servirebbe a pagare la cassa integrazione in Europa in maniera concordata 100 miliardi eccetera per l'Italia non vale assolutamente nulla praticamente lo scrive oggi Fubini perché c'è sostanzialmente un prestito che copre 4 settimane di cassa integrazione quindi fanno un prestito che copre 4 settimane di cassa integrazione italiana fantastico Patuonelli oggi dice la Sace può diventare la nuova IRI in un'intervista al Corriere della Sera e però ragazzi io trovo incredibile che mentre questi stavano lì invece di discutere delle cose pratiche come gli italiani possono accedere quanto è semplice come sburocratizziamo come la facciamo cioè invece di stare lì a sbattersi la testa un ministro con l'altro per capire come rendere semplici le cose come non commettere l'errore del decreto del 6 marzo che ancora non è arrivata una lira agli italiani sapete che cosa fanno discutono se queste garanzie doveva dare la Sace o la CDP la cui Sace è controllata dalla CDP pensate un po' voi questo era stato il grande tema sul contagio beh è stupenda il pezzo oggi che vi segnalo di di capezzone che continuo a dire che che giustamente dice quelli che quelli che tuonano per l'umanità per la riscoperta dell'umanità per la bellezza di stare tutti a casa per il nuovo mondo e gongolano per la malattia di Boris Johnson e Severnini fa tre quarti di pagina oggi su Boris Johnson semplicemente per dire che l'ha visto un paio di volte quindi una specie di grandissimo contenitore del piccolo ego del giornalista che vuol dire io l'ho conosciuto beh insomma è straordinario invece Repubblica ritrova il suo periodo d'oro il titolo di Repubblica di oggi ve lo segnalo a tutti sapete qual è? Mani pulite sul Trivulzio ragazzi Mani pulite sul Trivulzio viene nominato Colombo il PM di Mani pulite per il Trivulzio ed è lì guardate senza che perdiamo veramente tanto tempo intanto io mi chiedo l'idea editoriale di Repubblica che segue con tre giorni di ritardo quello che i manettari del fatto fanno cioè i manettari del fatto hanno scelto una linea che rende molto poco dal punto di vista delle copie però se sono contenti di loro è importante farla e c'è che tutto questo casino deriva da Fontana non da Agori non dai Lombardi dai sindaci del PD no da Fontana e Gallera oggi pure Travaglio li tratta come se fossero due delinquenti allora dopo che il fatto è iniziato su questo il fatto ovviamente ci ha messo sopra e l'inchiesta e la procura e hanno rubato e l'AE ovviamente non rubato poveraccia questi due tutto gli si può dire tranne quello quindi i magistrati il Pio Albergo Trivulzio che sarebbero morto delle persone è come è normale che avvengono purtroppo nelle case di cura ma alcune sarebbero morse di Covip è come è normale in un movimento in cui c'è la Covip e sono tante insomma se ci sono persone anziane sono quelle più colpite ma comunque lo scandalo creato prima pagina oggi della Repubblica mani pulite sul Trivulzio Sallusti dice qua è fantastico perché invece di occuparsi del governo che diciamo è un po' incerto mettiamola così ed è stato generoso invece di occuparsi della protezione civile che invece non è generoso è allo sbando come del tutto evidente invece di occuparsi della comunità scientifica che ogni giorno se ne inventa una diversa invece di occuparsi di un'Europa che ci tratta schiaffi in faccia il problema fondamentale qua è Fontana e Gallera cioè Lega con diciamo Lega e Forza Italia o Centrodestra o Regione Lombardia e dice Sallusti ragazzi noi ce la stiamo prendendo con la Lombardia come ce la potevamo prendere con l'Aquila perché si è beccato il terremoto e io aggiungo ricordatevi che questo paragone non è assurdo come vi può sembrare assurdo perché voi il terremoto è una cosa inaspettata mentre questa è una cosa attesa benissimo ma è attesa da tutta l'Italia è attesa con un decreto che ha fatto il conte che ha detto che avrebbe chiuso l'Italia il 31 gennaio cosa che io trovo incredibile ma che non è stato applicato e poi soprattutto non è incredibile perché voi vi rendete conto che hanno indagato la commissione rischi perché dovevano prevedere e gestire il terremoto dell'Aquila e poi dopo sono stati tutti assolti e lo stesso antico procedura sti manettari per motivi politici vogliono rompere le scatole a coloro che non la pensano come il 25 aprile come la loro bella ciao vivente nel frattempo io trovo incredibile anche queste doppie storie diciamo di giustizia proprio a proposito di giustizia e sono è stato prosciolto Pell Pell era quel cardinale ex ministro di Papa Francesco che era stato accusato di aver violentato due persone una di queste è morta e uno di questi bambini lo ha accusato alla fine molti testimoni dicevano che non era vero che non c'erano state quelle condizioni che non c'erano non erano stati soli ma comunque è stato accusato e condannato a sei anni scandalo la chiesa eccetera ieri è stato prosciolto dal tribunale australiano che aveva giudicato lui si è dimesso è stato in Australia ha detto giudicatemi il Papa gli ha tolto è stato prosciolto il titolo della Repubblica di oggi pedofilia due punti torna libero Pell va bene pedofilia due punti torna libero Pell toc toc Riccardo Luna tu che sei nella task force di Palazzo Chigi quello sulle bufale allora magari ci sono sempre tante bufale ma secondo te un titolo in cui viene prosciolto da tutte le infamanti accuse un cardinale che è stato su tutte le pagine giornali compreso il tuo in prima pagina il titolo è così pedofilia cioè evoca questa cosa orrenda torna libero Pell il titolo proprio quello grosso poi sotto non mi interessa il pezzo ovviamente sarà corretto ma questo titolo secondo te non è una bufala certo perché è nel limite della correttezza ma non ti fa urlare di arrabbiatura cioè il titolo è questo che torna libero Pell o che è stato prosciolto il che è molto diverso anche perché si può tarrare liberi perché hai passato il tempo in carcere oppure è addirittura scandaloso che torni libero nonostante tu sia pedofilo lo capite perfettamente che questo è un titolo assurdo tant'è che tutti i giornali Corriere Messaggero titolano sulla proscioglimento e per quanto riguarda Ferrara questo diventa Dreyfus ma dice Giuliano Firara sul foglio mi confondo ormai fatto e foglio perché sono così contiani tutti e due che sono molto simili perché dice Giuliano Ferrara che dopo questa gogna giudiziaria è stato fatto un grande attacco ai cattolici nel frattempo il Papa invece pregato ieri ha detto una cosa incredibile cioè attenzione agli accanimenti giudiziari quando si tratta dei suoi ministri è molto attento quando si tratta di altri forse lo è meno ma il Santo Padre ovviamente è evidente che si occupa più delle sue pecorelle vicine e smarrite però però l'altra grande notizia della giornata è su Contrada cioè Contrada che per 28 anni lo hanno accusato ingiustamente lo hanno arrestato per 8 anni oggi ha 90 anni ha beccato il risarcimento della commissione dell'alta corte europea della giustizia per 667 mila euro allora questo qua la procura di Caselli gli ha rovinato la vita lo hanno prosciolto perché non c'era il concorso esterno come loro supponevano e non era il complice di questo reato beh e chi paga questi 660 mila? noi contribuenti per le loro dei magistrati capite che c'è qualcosa che non funziona se volete se volete lo faccio un disegnino mettono in galera Contrada già è scandaloso i magistrati sbagliano si accaniscano per 28 anni e già questo è clamoroso poi la corte di giustizia europea fa pagare a Contrada un risarcimento che non gli arriverà mai perché c'è 90 anni di 670 mila euro e chi paga questo risarcimento noi contribuenti e i magistrati ciao core beh vabbè io la trovo fantastica vi do un grande saluto e direi che ci vediamo domani con la zuppa di porro e sul sito nicolaporro.it perché ci sono tante altre cose sul decreto liquidità di cui vi voglio parlare ciao